Sono Lucio Tarsariol, questo è il mio ultimo libro, Il figlio segreto di Hitler in Italia. In questo libro ho raccolto le prove fotografiche, i confronti calligrafici e tutte le testimonianze che confermano il fatto che tra la fine del 1917 e la primavera del 1918, l'allora capolare Adolf Hitler giunse in Italia, intraprese una relazione con una giovane donna di Soligo che rimase pur incinta. Il testimone fondamentale rimane Don Giovanni Pazin, all'ora paroco del paese di Soligo che intorno agli anni 70 fece questa dichiarazione. Come vedete in copertina abbiamo Don Giovanni Pazin qui al centro e a fianco il caporale Adolf Hitler che è quello con la canna in mano. Questo libro lo potete trovare nei maggiori stori italiani e stranieri, Ibi, Samson, Feltrinelli, eccetera. Per chi vuole approfondire questo argomento consiglio questa lettura. Per chi vuole approfondire questo argomento. Grazie.